Erminio Rullo, l'anno scorso ad Agnone, insomma play-off nel Girone F, quest'anno ad Avezzano per portare qualcosa di importante a questa piazza. Sicuramente il Presidente ha formato una squadra di giocatori validi, adesso cominceremo a lavorare soprattutto col gruppo, perché col gruppo di uomini si può fare qualcosa di importante. Tanti singoli, come diceva il mister, non vincono i campionati, con i nomi, abbiamo l'esempio dell'Inter, di Moratti, che per dieci anni ha speso tanti soldi e non ha mai vinto. Quindi noi dobbiamo mettere l'umiltà davanti a tutto, soprattutto nei grandi, ad esempio ai giovani che dobbiamo tirarci di dietro, loro magari correranno un po' di più per noi. Però è quello il segreto per portare la squadra ai vertici del campionato. Tu che hai giocato con il Lecce e con il Napoli, tanta esperienza, che cosa puoi dare a questi ragazzi? Sicuramente la voglia di lavorare. In settimana si lavora per portare la squadra al massimo la domenica, quindi prepararci da martedì, essere davanti al gruppo e dare il massimo. Quindi tutti quanti insieme, con i tifosi stessi, visto che un po' di entusiasmo si sta ricreando, sentiva l'anno scorso, c'era un po' di freddezza con i tifosi. Adesso è importante ricompattare tutto l'ambiente, la squadra e solo così possiamo fare qualcosa di importante. Grazie. 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 Grazie.